Ciao a tutti appassiati di Anime Manga, sono Alex, come sempre il video seguimi qui su YouTube e su Instagram, il link li trovate qui sotto in descrizione e aggiungetevi al gruppo Telegram. Vi invito a iscrivermi davvero perché a 500 farò un nuovo video sulla mia collezione e lasciate un bel mi piace che non vi costa nulla. Oggi farò video acquisti della quarta settimana del mese di marzo, partiamo Star Comics Dragon Ball GT volume 2 di 3, la saga dei draghi che ha visto l'anime, come penso la maggior parte di Google l'ha visto, praticamente la saga finale di Dragon Ball GT con i draghi, con le sferi di drago che si trasformano in draghi e bisogna purificarli. Poi, Ro Hero numero 5, il penultimo, i disegni sono mostruosi, è un po' mille doppi sensi, alcune immagini un po' spinte. Poi, Yona, la principessa scarlatta numero 23, uno shoujo molto particolare perché è pieno di battaglie e scontri, quindi anche se mi piace il shoujo però ci sono tante battaglie oltre al sentimentale, lo prendo sempre volentieri. Poi, quello che mi fa più ridere della J-pop, la via del grembiule numero 5, annunciato l'anime su Netflix, tra poco uscirà, però mi fa straridere, i disegni sono anche belli, faccio vedere giusto un'immagine per capire, però tante situazioni assurde che mi fanno ridere un casino, anche l'immagine di Cupertina è piuttosto ambigua, però è uno di quelli che mi fa più ridere, mi fa più staccare, rilassare, non pensare alle cose brutte. Poi, abbiamo, sempre da J-pop, Soyan Spider So What numero 5, sta finendo l'anime su Crunchyroll, anche se l'adattamento animato è un po' particolare. Dovete vederlo, diciamo che mi sembrano un po' tanti spoiler di quello che vedrà dopo, però, diciamo che è un Isekai RPG, quindi vedi tanti livellamenti, abilità particolari che escono, diventa davvero davvero P, ma anche questo lo prendo comunque volentieri. Poi, questo, una delle migliori uscite di quest'anno, Tokyo Revengers numero 3, sono davvero davvero curioso, vi ho fatto il video, la prima impressione, andate a recuperarlo, poi, ricorda un po' Eraset, l'Incipit, quindi, se vi piace, vi viaggi lì, cioè viaggi nel tempo, penso che vi possa piacere, guardate, faccio vedere giusto un disegno, questo disegno è molto carino, poi, ovviamente, in un mio video non può mai mancare qualcosa di Tezuka, Triton numero 2, di 2, quindi è l'ultima, finito, vi porterò il video, settimana prossima, non vedo l'ora, J-Pop, prezzo 16€, parla di questo popolo del mare, cioè, questo Tritone, l'ultimo discendente dei Tritoni, che deve salvarsi e cercare di battere Nettuno, che vuole esterminare tutta la razza dei Tritoni. Quindi, direi adesso, di passare a recuperi, perché questa settimana li ho finiti. Allora, con Solalin, il primo manga di Gnosano, l'ho letto, mi è piaciuto molto, ti fa pensare molto, soprattutto per me, che ho 30 anni, perché per me deve essere letto tra i 20 e i 30 anni, questo manga qua, prima non riesci a capire bene tutto quello che c'è dentro, non lo apprezzi davvero fino in fondo, bisogna essere un po' maturi, però è bello, mi piace, faccio vedere giusto il tratto, un certo punto è triste, succede una cosa che davvero non ti aspetti, ti lascia spiazzato, però l'insegnamento è che la vita continua e va avanti, nonostante le cose peggiori che ti possono succedere. Poi, finalmente, dopo mesi, finalmente sono uscito a recuperare tutto, quelli che mancavano, Batmix 2 e 3, con questo è finito, prezzo 17€, della Star Comics, Kazuo Mez, vi ho fatto comunque il video a prima pensione del 1.1, e ovviamente finito tutti e 3, vi farò video recensione. Sono davvero curioso, guarda, rifaccio giusto qualcosa del tratto, è giusto, horror, genere horror, sono davvero curioso perché la protagonista è cattivissima, è una cosa davvero cattiva. Poi, Big Mega Recupero, tutto, Violence Jack, sono anche bei volumi, belli pesanti, sono 18, circa 10€, anche se li ho presi da un privato, quindi li ho pagati di meno. Poi, fidatevi che pesano, ma pesano davvero, non vedo l'ora di legge, è di Gonagai, quindi è una garanzia, quando avrò finito ve lo porterò, ovviamente il video, e l'ultimo che mi è arrivato giusto oggi, dal direttamente al Giappone, il numero 1 di Darli in the Franks. L'ho preso semplicemente, principalmente perché in Italia, probabilmente non arriverà mai come messo, faccio vedere giusto, dei disegni che posso far vedere, perché la maggior parte, è molto più spinto è l'anime, ma davvero molto più spinto, cioè, mi vanno, mi chiudono il profilo, e vi faccio vedere certe immagini, però Zero Chu è davvero qualcosa di, faccio vedere le mie pagine che sono a colori, che sono qualcosa di stupendo. 650 Yen, quindi circa 5€ da noi. Però, ne vale la pena, si amate Zero Chu, Darling in the Franks più che altro, e Zero Chu, non potete non prenderlo, perché comunque l'anime, se vi è piaciuto, è uguale, però è molto ma molto più spinto. Doveva essere Peggy 18, diciamo, se vogliamo fare un video, però, fidatevi, non so se volete un video della prima impressione, scrivetemi qui sotto nei commenti, vi ricordo, aggiungetevi al gruppo Telegram, attivate la campanellina e, ovviamente, iscrivetevi, e se lo condividete, mi fate un piacere, per così mi supportate, cresce il canale, vi porto molti più video, anche più manga provenienti dal Giappone, quindi aiutatemi molto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!